Adesso vi dimostriamo anche che sa parlare anche molto bene Maria allora ci dici un po' qualcosa di te di quello che farai adesso in questa stagione Buonasera a tutti Buonasera a tutti Innanzitutto volevo ringraziarvi per le bellissime parole che avete speso Come sempre grazie mi adoro E sono un po' vecchia sto crescendo ormai Tra un po' basta scherzo Niente progetti futuri amici di nuovo ad ottobre settembre Chi lo sa ormai non sappiamo più neanche quando comincia E ci saranno nuovi ragazzi da aiutare a portarli come Che grave eh Gianno tu ti ricordi qualcosa? Una famosa presa ti ricordi? Eh? E niente adesso cercherò di dare come sempre il mio meglio Cercando di trasmettere a questo bellissimo pubblico complimenti eh Veramente siete favolosi Favolosi Veramente un bellissimo pubblico E niente tutto qua Per voi Maria Ziafino Grazie a tutti 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 Altro che Pippo Baudo ragazzi stasera Il suo Cd ha venduto quasi 100.000 copie Ha vinto il disco di Breda